Oggi è stato un momento per rinsaldare questo regame delle radici e anche il coinvolgimento delle istituzioni. Quindi un grazie a tutti i comuni gemellati con la città di Hamilton, Pettorano, Pacentro, Sulmona, Pratola, Gagliano, Introdacqua, Villetta e Castiglione a Casauria che hanno partecipato con i loro sindaci nell'omaggiare il sindaco di Hamilton. Pensate, solo la città di Toronto ha circa 80.000 abruzzesi, quindi quanto è forte questo legame, quanto ha dato l'Abruzzo al Canada nel renderlo più bello e migliore. Oggi le istituzioni si incontrano, già lo fanno i cittadini e tendiamo a rinsaldare questo rapporto con le radici. L'anno prossimo in Italia sarà l'anno delle radici. Lo Stato italiano ha messo oltre 20 milioni di euro sul turismo di ritorno perché è anche un brand che deve essere valorizzato.